Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Can you hear that feeling? Cliccio del raviolone basta scendere non killarmi non killarmi scendiamo qua prima che mi killa no aspetta riusciamo a prendere il forte white come vedete qua sotto io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel like Iscrivetevi al canale noi ci vediamo fra poco in live ciao Grazie a tutti